Allora, buongiorno ai nostri amici, oggi siamo in compagnia del professor Corrado Malanga dell'Università di Pisa. Il professor Malanga, la prima domanda che volevo farle è come è possibile che un accademico, uno scienziato, un ricercatore come lei, arrivi a parlare di alieni? Questo è un po' il motivo di fondo di tutta l'intervista. Come ci è arrivato, professore? Attraverso quale percorso? La risposta è semplicissima, anche se probabilmente è in attesa. Io a 15 anni leggevo i libri di Peter Colosimo e Colosimo sosteneva che gli alieni erano già venuti su questo pianeta in etantichissime remorche. Allora io ho detto, questa è una cosa interessante, se gli alieni ci sono, io vado alla ricerca degli alieni perché è a loro che farò le domande importanti. Chi siamo? Esiste Dio? Come è fatto l'universo? Ma ci sarà questo bosone di X? E' inutile che spendiamo un sacco di miliardi per cercare di capire una cosa. Ci sono gli alieni? Sono più bravi di noi? O chiediamolo a loro? Questo è stato il motivo fondamentale che purtroppo mi ha portato allo studio di questa fenomenologia e quasi subito mi sono reso conto che le cose non erano così semplici, che gli alieni non mi avrebbero mai risposto anche se li avessi trovati. Ma questo è un altro discorso. Ecco, ma lei ha cominciato, poi c'era Colossimo, c'erano altri autori che parlavano di fantascienza ma abbiamo avuto anche, non scrittori di fantascienza, abbiamo avuto un Sicin per esempio che interpretando comunque, leggendo le tavolette sumere è arrivato, mi pare, alla stessa conclusione. Mi pare che anche Mauro Biglino, traducendo la Bibbia, sia arrivato comunque alla stessa conclusione che ci sono questi alieni che sono arrivati sulla Terra, non si sa bene quando, perché non si sa bene quando, ma lei è partito, mi pare, al di là della lettura comunque di questi libri di fantascienza, lei è partito dal CUN, CUN è esattamente professore... Centro Ufologico Nazionale. Ma come mai il CUN Centro Ufologico Nazionale, si occupa di UFO naturalmente, si rivolge ad un ricercatore di chimica, com'è questa cosa, come ci è arrivato in sostanza? È semplice, io avevo sicuramente i pantaloni corti, quando contattai il CUN, Centro Ufologico Nazionale, e gli chiesi di iscrivermi, perché avevano una rivistina che loro mandavano in giro, e volevo essere aggiornato su questo problema. Mano a mano che andavo avanti e cercavo di studiare, insomma, di rendermi conto di questo fenomeno, mi resi conto che nel Centro Ufologico Nazionale c'erano giornalisti, filosofi, insomma mancava uno scientista, mancava un fisico, mancava un chimico, e allora gli proposi di collaborare con loro. Mi ricordo che la prima volta che vi un vero e proprio rapporto con loro fu al secondo congresso internazionale, mi sembra, che si fece a Cesano Maderno, dove io portai una piccola relazione, c'era la gente che portava relazioni con quanti UFO ho visto passare di qui a lista notte, le fotografie delle tracce del suolo, io portai la risonanza magnetica nucleare e la spesoscopia infrarossa in trasformata di Fourier nell'analisi delle tracce al suolo di UFO. Detto questo, la gente gli venne i capelli ritti perché una cosa del genere non l'aveva mai fatta nessuno, però qualcuno doveva cominciare. Chiaramente si innamorarono un po' di quella che poteva essere la mia cultura, ancora non ero l'almeato, e mi proposero di entrare a far parte del Consiglio Direttivo. Io entrai a far parte del Consiglio Direttivo e cercai, per quello che mi competeva, di occuparmi di quello che poteva essere il mio campo, cioè la parte scientifica. C'erano altri che facevano l'uomo immagine, il politico, quello legato ai militari, ricordiamo che nel Centro Ocologico Nazionale c'era sempre stato un generale dell'aeronautica militare, c'era sempre stato qualcuno che era legato alla massoneria, c'era sempre stato qualcuno che era legato ai preti al Vaticano, Opus Dei. E questo per quale ragione? C'era un generale dell'aeronautica del Vaticano? Perché il Centro Ocologico Nazionale allora rappresentava sicuramente una situazione scomoda per il potere e quindi andava tenuto sotto controllo. Io mi interessavo dei cavoli miei fino a che a un certo punto non ho potuto più interessarmi di queste cose nel modo corretto e ho sentito il bisogno di andare fuori e respirare un pochino di aria pulita. Ecco, ma lo scopo del CUN qual era in sostanza? Lo scopo del CUN era in realtà lo scopo del suo Presidente, del suo Secretario Nazionale che allora era, forse lo sarà ancora, non so che fine abbia fatto, un certo dottor Roberto Pinotti che si spacciava, poi si scoprì per sociologo, si spacciava per giornalista, si spacciava per ricercatore allo spaziale, si spacciava per grande economista, tutte le aule più o meno false, finte, ma in realtà lui aveva un'idea super egoica del voler tenere sotto controllo la situazione, voleva diventare una persona importante, ora fare il chimico, fare il fisico diventava difficile, al fare l'ufologo non c'era nessuno che lo faceva, l'ha scelto lui, così dice non ho concorrenza. In quel contesto però, secondo un modestissimo punto di vista, per fare questo ha dovuto prendere degli accordi con quelli che sono i servizi segreti, la massoneria di cui tuttora credo faccia parte e che si scoprirà dopo, perché io da personaggio all'interno del Centro Ufologico Nazionale, direttivo, non mi ero subito reso conto, mi sono voluti 35 anni per rendermi conto di questa cosa, vedete come sono lento di cervello, però poi ho capito. Ma la sua esperienza, quindi, alcuno come andò questa esperienza? L'esperienza 35 annale si fecero un sacco di cose importanti, fu lì che io cominciai a studiare il problema delle abduction, delle adduzioni aliene, di cui parleremo poi, di cui parleremo dopo, perché mi ci mandarono loro, pensaci te, sei te un scientista, facci te, oppure mandavano a me in televisione a fare scudo alla professoressa Hack, a professor Zichichi, perché nessuno poteva in qualche modo, non avevano le carte in regola per poter affrontare un discorso con Tuglio-Legge, per esempio, o a Torino, bisognava anche, io ero l'unico che poteva sostituire. Ma per carte in regola che cosa intende quando dice cartella? Non avevano le carte in regola. Carte in regola vuol dire avere dei prerequisiti, quando si parla di fisica quantistica, o si parla di chimica, o si parla di concezione del tempo, dello spazio, da un punto di vista geometrico, non lo può fare un sociologo, lo deve fare un chimico o un fisico. Ecco perché io, quando serviva, andavo mandato dai dirigenti di quell'associazione Centro Ufologico Nazionale un po' allo sbaraglio e a difendere le nostre idee, che erano le mie, quelle di dire la verità a tutti, quelle del Centro Ufologico Nazionale e di tenere in realtà tutto nascosto. Ecco, la sua esperienza diretta, mi pare, se dico giusto, professore, cominciò col caso Lonzi, se non sbaglio. Che cosa successe? Che cosa verificò lei in questo caso Lonzi? E per quanto tempo lo studiò questo caso? Il caso Lonzi ci ha preso allora un periodo di circa due anni e mezzo, tre anni di lavoro. Andai a trovare Lonzi perché il Lonzi, che allora credo avesse 26-27 anni, apriva una cosa commerciale a Genova e per farsi un pochino di pubblicità aveva fatto un trafiletto in cui diceva si apre questo nuovo locale, eccetera, eccetera. Lonzi è uno che tra parentesi ha avuto anche un problema quando aveva 15 anni al campeggio, ha visto un ufo. E serviva per fare un po' di reclamo, di pubblicità. E allora io andai, mandato dal Centro Teologico Nazionale, a parlare con questo Lonzi e gli dissi guarda, ti hai raccontato una cosa interessante, hai raccontato che quando avevi 15 anni in questo campeggio a un certo punto hai visto alcune sfere luminose che ti venivano intorno, tu hai perso coscienza, ti sveglierai 45 minuti di tempo dopo, in realtà le cose poi non andarono così, ma lui se le ricordava così, e soprattutto il giorno dopo ti trovi con tre cicatrici di 15 centimetri lunghe così sulla schiena, che il tuo dottore ti dirà, sono cicatrici con punti di sutura, Valerio, Lonzi, Valerio dimmi chi ti ha operato. E Valerio con la mamma dice, ma veramente questo ragazzo è stato al campeggio? Comincia da lì la storia. Allora vado a Genova, parlo con Lonzi, prendo il dottor Moretti, che era uno dei principali ipnologi allora italiani sulla piazza, e con Moretti stabiliamo, e con Lonzi d'accordo, la possibilità di indagare questo ragazzo con la tecnica della ipnosi regressiva, tecnica già utilizzata negli Stati Uniti d'America, con grande successo da Badocchis o da altri ricercatori, tra cui ricorderemo in seguito anche John Mack, psichiatra dell'Arma Team University. Quindi lei, mi pare di capire, il professore si creò degli strumenti, creò degli strumenti per indagare più a fondo. Quali strumenti cominciò appunto ad utilizzare? A parte l'ipnosi, cominciò poi ad utilizzare anche altri strumenti per verificare l'attendibilità di queste abdash? Certo, perché la cosa era diversa. Mentre prima noi facevamo le analisi sul territorio, la risonanza magnetica nucleare, la spettrometria di massa, l'infrarosso e così via, le analisi chimiche vere e proprie, per verificare la possibilità di dare alla scienza una prova provata che c'erano state delle interferenze di natura aliena sul pianeta Terra, cioè questa roba che veniva vista, era vera e veniva da fuori, citerò l'analisi importante più di tutte, che è la percentuale isotopica che si fa con la spettrometria di massa a struttura fine. Cioè che cosa consiste, scusi? Consiste nel misurare il numero di neutroni che ci sono nei nuclei delle sostanze che noi stiamo analizzando. Se il numero di neutroni è uguale con il percentuale a quello che noi troviamo sulla Terra, quella roba viene dalla Terra. Se invece la percentuale è differente, evidentemente come un meteorite, come si fa a sapere che un pezzo di un ciotolo che troviamo per Terra viene da Marte, perché la percentuale isotopica è differente. In questo contesto, quindi nessuno, anche se noi avevamo trovato dei dati interessanti, ci dava letta. C'era il problema dello studio, iniziato in Italia in quegli anni, da noi, delle adduzioni, bisognava cambiare tutto, cioè trovare il sistema di studiare la mente dell'addotto. Cosa c'hai nella testa? Dici la verità? Hai visto realmente quello che dici di aver visto? Oppure c'è una sovrastruttura mentale che ti permette di dire delle cose che in realtà te non hai minimamente visto né vissuto? Ecco, l'ipnosi regressiva era un'ipotesi di lavoro. In America era già stata studiata circa, lavorata per almeno 25 anni. Noi eravamo nei primi anni. Subito dopo ci sarà l'utilizzo delle altre tecniche, che sono la grafometria, la grafologia, dimmi come scrivi e ti dirò chi sei, e in un successivo tempo la programmazione neurolinguistica. Cioè, quando io parlo, in realtà la mia voce dice una cosa, ma il mio movimento corporeo, attraverso un processo metacomunicativo, potrebbe mettere in atto un processo comunicativo distonico con la mia voce, le mie parole, i miei fonemi. E quindi io potrei essere cosciente o non cosciente di dire una bugia. Come si fa a sapere? Bisogna studiare la programmazione neurolinguistica, in cui l'ipnosi rientrata, perché dobbiamo ricordare che l'ipnosi, parte dal 1700, grossomodo, da un punto di vista scientifico. Mesmer, no? I fenomeni mesmeriani. Poi però Ericsson, La scuola di Saint-Pierre. Ericsson, oppure Granone in Italia, o altri, la studieranno in un modo di vista tecnico, gli daranno una struttura. La programmazione neurolinguistica viene dopo. Parte dagli studi di Ericsson, ma la PNL è una cosa più grande, in cui anche l'ipnosi e l'ipnosi regressiva possono entrare. Quindi, avendo davanti a noi gli strumenti della programmazione neurolinguistica inventata, scoperta, strutturata da Bandler e Grinder, ecco che noi abbiamo veramente sfondato il cervello delle persone, riuscendo a capire se questi dicevano la verità oppure no, e quindi siamo andati davanti dallo studio. Allora, professore, vediamo di capire bene questi strumenti. A un certo punto anche lei si pone il problema dell'attendibilità di quello che alcune persone dicono a partire da Luzzi, e poi lo farà successivamente per quanto riguarda le abdation, cioè i cosiddetti rapimenti alieni. Ma l'ipnosi, che cosa permette di fare? L'ipnosi, quando io ho cominciato a studiare... Poi vediamo anche gli altri strumenti. Quando io ho cominciato a studiare l'ipnosi, mi sono affidato alla letteratura, cioè che cosa fa in ipnosi un soggetto, cosa dice Ericsson nelle sue 500 pagine di lavori scientifici pubblicati su riviste scientifiche, sono partito da lì. L'ipnosi si credeva, ai tempi di Ericsson, che fosse un sistema per rivivificare i ricordi. Ricordiamo che Ericsson era un medico, era un medico, no? Un psichiatra. Che aveva problemi di salute e cominciò ad osservare i fratellini. Lui aveva avuto nella sua vita due forti attacchi di poliomelite e quindi non riusciva a camminare bene e non poteva giocare a pallone con gli altri ragazzetti. Un po' la capacità di osservazione. Assolutamente, con questo sistema. Se lui non fosse stato poliomelitico non avremmo avuto Ericsson. Era bella questa cosa. e si pensa quindi che l'ipnosi sia un sistema che allora non era tanto conosciuto, un meccanismo mentale che riuscisse a isolare parti del sé interno e permettesse di parlare solo con l'inconscio profondo. Poi questi termini, inconscio, inconscio, subconscio, ognuno gli dà un significato un po' particolare. Magari poi se volete lo vediamo meglio. Il sé profondo. Questo sé profondo raccontava quello che poteva essere successo e che io mi ero dimenticato perché avevo subito un trauma. Questa era la storia. Quindi potevo ricordare cose che non avrei potuto ricordare a un livello di coscienza normale. La coscienza alterata, ottenuta con i meccanismi dell'ipnosi regressiva, ci permettono di riscoprire. Scopriremo poi che la fisica quantistica moderna dice che il tempo non esiste, che lo spazio non esiste e che l'energia non esiste. Possiamo arrivare con gradualità. Certo. Quindi, vediamo un po', chiariamo un po' sull'ipnosi. L'ipnosi permette di accedere ad informazioni che il soggetto ha di cui non è consapevole, a cui non accede volontariamente. e che crede essere relegate nel suo passato. Perfetto. E che crede essere relegate nel suo passato. È importantissimo. Da questo punto di vista sottolineiamo subito che in ipnosi regressiva non si può mentire. Cioè io non posso spudoratamente dire una cosa che non penso, a cui non credo. Io, se dico una cosa, è perché ci credo. Non è detto che quella cosa sia la verità. Ma io non le ho. Ne sono convinto. Ne sono convinto. Quindi, se si mette in ipnosi un soggetto e gli si fa ricordare quando era ubriaco l'altra sera, è chiaro che mi descriverà i panni della luce che non sono dritti, ma fanno così. Perché lui li ha visti, li ha ricepiti così, la sua mappa del territorio ha preso questi dati, li ha portati dentro di sé e lui te li ridice, così come li ha visti. Non si può, e questo per le prove scientifiche sono chiarissime, mentire. Erickson spende diversi lavori scientifici nel tentativo di far dire delle menzogne alle persone che metterà in ipnosi e non ci riuscirà mai. Non ci si deve confondere con un altro aspetto dell'ipnosi che è quella situazione in cui uno si trova di fronte a un ipnologo che fa una ipnosi flash toccandoti, ci sono diverse tecniche, e ti fa credere che tu abbia una serie di mosche e di api che ti circondano. E allora vedrai questo soggetto che cerca di cacciarle. si vede benissimo che le mosche non ci sono, allora lui è stato ingannato, ha detto una cosa che non è vera, quindi in ipnosi si può dire tutto e il contrario di tutto. No, cosa succede in quel senso, in quel settore lì, in quel momento? Il soggetto ha gli occhi chiusi, l'ipnosi ti permette di isolare il tuo cosciente, la tua mente, e il tuo subconscio, il tuo lobo sinistro, la ragione, e tu hai solo l'inconscio, l'inconscio è come un bambino piccolo che non sa nemmeno che esista la struttura della bugia, quindi il tuo subconscio e la tua mente sono diventati il tuo ipnologo, a cui tu credi ciecamente, perché lui ti dice che ci sono le api, e quindi tu credi di avere le api, anche se non le vedi, e quindi ti muovi in quel modo, cercando di scacciare una finta nuvola di api, ma non stai mentendo, i dati in quell'istante stanno entrando in quel momento nel tuo contesto, nella tua mente, nel tuo cervello, mentre quando io vado a chiedere l'ipnosi regressiva, il tuo passato, i dati sono già entrati prima, sono già stati registrati su un disco hard che hai nella testa, e te li vai a rileggere, e non li puoi modificare, questa è una cosa fondamentale, cioè con le opportune regole, conoscendo quelli che sono i limiti di una ipotetica ipnosi scientifica, non puoi mentire. Quindi lei cominciò a dotarsi di strumenti, uno abbiamo detto l'ipnosi, poi la PNL, programmazione neurolinguistica, e poi ci spiegherà meglio in che cosa consiste, perché a mio avviso c'è molta fuffa in giro, quindi cominciamo a capire che cos'è la PNL seria, che cos'è invece questi venditori di fumo, poi occupandosi di abdaction, a un certo punto lei cominciò a occuparsi di rapimenti alieni, e la mi pare costruì altri strumenti, che erano dei test se non sbaglio, per verificare ancora l'attendibilità, l'affidabilità di quello che mi va detto. Ci vuoi parlare un po' di questo abdaction, come ci arrivò? Tutto comincia dal libro che io scrissi, sulla storia di Valerio Lozzi, un libro di UFO nella mente, gli UFO potevano essere solo nella mente di Valerio, in realtà non esistere fuori, questo dovevamo comprendere, nello studio che abbiamo fatto con Dottor Noretti, si capiva perfettamente che Valerio Lozzi aveva subito un trauma, e lo stesso trauma che lui aveva subito era quello che riportavano gli studiosi americani, oltreoceano, Bud Hopkins, John Mack, David Jacobs, della Temple University, cioè persone che siano interessati come me in Italia di questo problema. va sottolineato che il libro viene letto da 35.000 persone, tante sono le copie che sono state vendute, quindi forse anche di più, e cominciano ad arrivare delle lettere di persone che si riconoscono nell'esperienza di Valerio. Come facevamo noi a capire se c'era stato un fenomeno di psicosi di massa? Dovevamo costruire dei test, e i test sono validi cominciando a sentire un sacco di persone, verificare queste persone da un punto di vista statistico, quindi alti numeri, validità scientifica, che cosa raccontavano, cominciamo a capire che tutti raccontavano le stesse esperienze, e sulle stesse esperienze abbiamo costruito un test in cui le 60 domande, grosso modo, che ci sono ora, sono 60 punti descritti di una adduzione. Una rete è il test, TAV, test di autovalutazione, non ha nulla a che fare con il treno a grande velocità. Test di autovalutazione, per chi ha autovalutazione? Il soggetto legge il test e qualcosa dentro di sé comincia a muoversi, e dice ma perché mi fa questa strana domanda? E sente dentro di sé crescere l'emotività di qualche cosa che lui a livello cosciente non sa, ma a livello inconscio sa perfettamente che cosa vuol dire quella domanda. Esempio, hai mai perso sangue dal naso? Hai mai sognato di essere chiuso dentro un contenitore? Hai mai sognato un essere con le pupille verticali? Hai mai creduto di partorire? Sono domande molto particolari. E il soggetto comincia a rispondere sì, 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 forca puttana, perché io rispondo sì? Ecco, in quell'istante noi abbiamo costruito una rete, una rete che deve prendere i pesci e i pesci sono gli addutti che non sanno di essere pesci. e allora bisogna costruire una rete con le maglie piccole piccole perché solo questi pesci che sono piccoli piccoli non ci possono rimanere incastrati. Ma costruire una rete con le maglie piccole piccole è un casino perché vuol dire che tutti i pesci ti rimangono dentro. E allora come si fa? Test di autovalutazione è una rete in cui i pesci ci si autobuttano dentro. I pesci piccoli sono quelli che vogliamo noi. Ecco che i pesci si autovalutava e diceva mi mandava il test di autovalutazione con la seguente due righe e senta questo strano test che ho trovato su internet me lo guarda un attimo lei. In quel momento qualcosa dentro il soggetto a livello psicologico gli aveva fatto dire ma non è che io sono lì in quell'insieme di pesci piccoli che sono stato addotto è per quello che sogno questi strani esseri piccoli alti 1,20 m con tre dita in pollice opponibile capoccione grosso puzzolenti che di notte ogni tanto li vedo nella mia camera l'aletto che mi tirano i piedi è nato così il test di autovalutazione dopo il test di autovalutazione chiaramente noi abbiamo applicato anche l'analisi grafologica perché come scrivi io ti dico immediatamente di sé faccio presente il test del Rorschach che è un test delle macchie di inchiosse conosciuto esattamente con questo ha un'attendibilità a grosso modo del 75% un'analisi grafologica del 95-97% ed è molto più facile ed è molto più facile quindi lei si dota di questi strumenti mi pare quindi c'è uno strumento di ingresso attualmente che è il TAV e poi si dota appunto di questa dell'ipnosi e della PML con questi strumenti a un certo punto lei non parla solo con l'inconscio cioè cominciano a emergere sotto ipnosi una serie di una serie di altre informazioni imprevisti l'imprevisto una serie di altre informazioni che cosa emerge da queste ipnosi noi volevamo studiare che noi cioè ci rido perché ero veramente un bimbo noi volevamo studiare cercare di far ricordare al soggetto che cosa era successo come era fatta l'astronave come si apriva la porta come era vestito l'alieno come era fatto l'alieno cosa ne aveva fatto questa era una strutturazione del ricordo e invece accadono degli imprevisti noi lavoriamo agli inizi con tre gruppi di ipnologi e tre gruppi differenti di addotti ottenendo sempre gli stessi risultati tenete presente che fino ad oggi grossomodo io ne avrò studiati circa duemila mi sembra che che Erickson abbia messo in ipnosi nell'arco della sua vita 3600 3500 circa tra cui la sua moglie 360 volte in un anno povera moglie di Erickson beh a parte questo viene fuori qualcosa di strano la prima volta che ci troviamo di fronte a questo qualcosa di strano io cerco di far ricordare al soggetto come è fatto l'ambiente cosa sta succedendo sono dentro un contenitore orizzontale mi dice il soggetto a un certo punto parte una strana vibrazione dentro di me e io vedo tutto dall'alto allora io all'inizio credevo che il soggetto avesse paura di ricordare quello che stava succedendo e una specie di sua creata personalità esterna gli facesse vedere per comodità interna le cose come se a lui non riguardassero un processo dissociativo si potrebbe dire da un punto di vista psicoanalitico cosa vedi dall'alto come ti sei girato perché se io sono in orizzontale esco in alto poi mi devo girare per guardare verso il basso in questo contesto il soggetto mi dice io non mi sono mai girato che cosa vedi come fai a vedere in basso allora se non ti sei mai girato ma io non vedo in basso io vedo dappertutto era una frase che non aveva non sapevamo interpretare non ha un senso logico non ha un senso logico allora siccome tutte le cose devono tornare cominciamo a fare un set di domande di controllo il set di domande di controllo è il seguente guardati le mani non vedo le mani dice il soggetto in ipnosi beh guardati il corpo ma io non ho corpo dice il soggetto in ipnosi a volte gli chiedevamo come ti chiami risposta noi non abbiamo nome e qualche volta io so come si chiama lui Giuseppe quello seduto laggiù in basso è il mio contenitore io vivo dentro di lui strano ma definisciti quanti anni hai cosa vuol dire rispondeva non aveva proprio l'idea del tempo da quanto tempo esisti da sempre come sei fatto sono una matrice di punti di luce queste erano le risposte strane che venivano fuori non una volta sola come qualche imbecille dice ma tante volte che cavolo era questa cosa che usciva dal corpo sono una matrice di punti di luce e quando si chiedeva cosa vedi? vedo degli esseri che non sono di questo pianeta che fanno delle cose cosa vogliono? vogliono me perché vogliono te? perché io sono la vita questo era un modello di risposta la vita che cavolo era questa roba? non la sapevamo definire a un certo punto abbiamo pensato che potevamo applicare il concetto fondamentale che gli antichi davano alla parte animica anima chiamiamola anima struttureremo subito dopo il corpo umano con una chiara direttura che divide il corpo umano come un contenitore di una trinità che è un'anima una mente e uno spirito ecco questo concetto professore è importantissimo lei da queste da queste ipnosi e dalle descrizioni fatte appunto dagli adotti di cui ci ha appena parlato arriva questa tripartizione che apparentemente è facile da comprendere ma in realtà credo che non sia così tanto facile quindi reddice c'è mente spirito e anima ecco io avevo un'esigenza io ero ancora a quel tempo gallileiano quindi studiavo le cose le cose dovevano essere ripetibili il metodo scientifico dovevano avere un significato fisico dovevano essere descritti con una formula che descrivesse queste cose mi trovo di fronte a una problematica del genere non so come descrivere tutto ciò e perché avevo ancora l'idea che il mondo scientifico si sarebbe potuto interessare a questa problematica solo se io avessi portato delle prove consistenti cioè legate al linguaggio che si usa nella scienza perché la scienza capisce purtroppo oggi solo il suo linguaggio e tende a ritenere che gli altri linguaggi non vadano bene questo atto grosso di presunzione è lo stesso atto di presunzione che fa la chiesa che ritiene che il suo linguaggio sia il migliore e gli altri no quindi da una parte la scienza dall'altra parte la religione che usano due linguaggi apparentemente differenti non venivano incontro alle nostre idee scienza e religione poi capirò che sono fatte di una unica pasta e che derivano dall'antica magia scienza e religione sostanzialmente sono fatte per spartirsi il potere una volta c'era Mago Merlino figura ideica e simbolica e Re Artuc era il politico il politico di turno vede Mago Merlino che è lo scienziato di corte è quello però che parla anche con le forze della natura con gli dei troppo potere a Mago Merlino in quell'istante nasce la scienza che è staccata dalla religione i principi della scienza le leggi della fisica e dall'altra parte i misteri della fede sono quelli a cui te devi credere per essere all'interno del sistema se no non sei accettato o dalla scienza o dalla religione e siccome questo mondo ti fa credere che tu debba per forza scegliere tra tizio e calo tra buono e cattivo te ti trovi categorizzato in una di queste due situazioni anche se te non vuoi e non hai capito non te lo ricordi più che scienza e religione derivavano da un'unica cosa che era la magia che è un'altra cosa molto più importante non a caso Bendele e Grinder scrivono un libro sulla magia della comunicazione non a caso la struttura della magia la struttura della magia non a caso in Sud America José Luis Parise che è uno un psicoanalista che ha studiato per trent'anni le regole le idee che gli sciamani mettono in pratica per modificare e scrivere dei dodici punti della magia non a caso è la magia non tanto quella di Mago Merlino ma quella della fisica quantistica che ti permette di capire come si fa a modificare le regole dell'universo virtuale non a caso si arriva in fondo a comprendere che tu sei Dio cioè colui che cambia le cose tutto questo ci faceva cambiare completamente modo di operare di vedere le cose questa cosa finisco subito questa cosa questa parte animica era un po' il mago della situazione era quello quella parte animica che noi dovevamo distinguere e identificare come gruppo di vettori è lì che è nata l'idea di definire anima mente e spirito come alcuni vettori anima è definibile come energia potenziale e come spazio ma non ha l'asse del tempo la parte spirituale che veniva fuori in altre ipnosi come energia e come tempo ma non aveva l'asse dello spazio e la mente energia non l'aveva aveva lo spazio e il tempo e tutte queste tre cose avevano erano coscienza ma tre coscienze diverse ognuno di questi tre anima mente e spirito erano remavano ognuno per i cavoli suoi la somma delle tre coscienze in qualche modo resa compatibile tra di loro avrebbe creato quello che in futuro noi avremmo identificato come un uomo integro che sa chi è e non come tre pezzi di uomo ognuno che va in una direzione completamente differente siamo partiti con gli alieni e arriveremo fra un attimo a comprendere che gli alieni non sono altri importanti ma la cosa più importante è l'acquisizione della coscienza che ti permette di sapere chi sei non potevi studiare gli alieni se non sapevi come era fatto lui possiamo fare alcune precisazioni professore intanto piacerebbe che lei desse la sua definizione di magia prima poi l'ignoranza l'ignoranza su questa nostra tripartizione su chi cos'è mente spirito eccetera può essere uno strumento di dominio e la scienza e la religione possono essere strumenti di dominio questi strumenti di dominio questa è la scienza della religione possono puntare sulla dualità sembra una domanda un po' difficilotta ma lei è un certo che mi ha compreso sulla dualità per mantenerci nell'ignoranza non vanno un po' complesse allora la definizione di magia la diamo per ultima strumenti di dominio diceva la religione e scienza gli esseri umani sono stati sempre portati erroneamente a credere che l'universo sia duale cioè che ci siano i buoni i cattivi l'acceso lo spento il vuoto il piedo i maschi e le femmine in realtà l'acceso e lo spento in realtà la dualità l'idea del duale è un'idea finta di cui si nutre solamente l'universo virtuale vi spiego meglio l'universo secondo la fisica moderna possiamo dividerlo con le parole di Krishnamurti o le parole del fisico BOM in due mondi separati una realtà reale che vuol dire non modificabile e una realtà virtuale che non vuol dire finta ma vuol dire modificabile noi vediamo solamente la realtà virtuale questo penarello lo prendo lo tolgo lo metto da una parte dall'altra ne cambio i suoi connotati fisici strutturali energetici e così via spazio temporale la realtà reale invece che è costante non può essere definita matematicamente perché non cambia nulla non c'è una fx funzione di y non cambia niente quindi non ha derivato non si vede niente questa realtà reale in realtà compare ogni tanto con una sua nascostissima presenza nella fisica e la fisica moderna appioppa a questo aspetto dell'universo il nome di parametro nascosto ci sarà un motivo del perché un'onda si comporta da particella boh sarà un parametro nascosto un parametro guardate bene che sicuramente esiste è nascosto noi non lo vediamo ma prima o poi lo troveremo e lo misureremo in realtà la fisica sta vendendo la pelle dell'orso prima di averlo catturato e quell'orso lì non lo catturerà mai perché si sono accorti che c'è qualche cosa che entra nel mondo virtuale e che modifica la virtualità non lo vedono perché non lo possono misurare e lo chiamano parametro nascosto perché il fisico se non misura le cose è rovinato la misura è la base di tutta la fisica o crea un modello matematico il modello matematico è solo un linguaggio e non è una scienza la matematica che è come l'esperanto che serve per essere capito da tutti allora sovente i matematici italiani credono che la matematica sia una scienza mentre i matematici inglesi angostassoni pensano che la matematica sia un linguaggio già qui ci si potrebbe discutere tanto il problema è che questi parametri nascosti in realtà si comincerà a capire che sono la coscienza la coscienza infatti era è e sarà sempre uguale sempre la stessa allora la coscienza è Dio secondo quella che potrebbe essere la definizione data da una religione qualsiasi e in questo contesto si comprende come la coscienza non è duale è duale lo spazio il tempo è l'energia ma la coscienza non ha una immagine due immagini speculari ne ha una sola mentre lo spazio può essere più se vado a destra meno se vado a sinistra il tempo ruoto in senso orario ruoto in senso anti-orario l'energia cambio di dimensioni quello che corrisponde all'idea della coscienza è semplicemente un centro di inversione facciamola semplice un piano speculare c'è scritto nella Bibbia Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza l'idea della specularità dell'universo è legata in fondo archetipicamente e anche negli antichi testi siano essi più o meno religiosi l'universo si scopre che si forma e funziona con archetipi che cosa sono gli archetipi? gli archetipi sono degli operatori ermetiani lineari detto così non si capisce niente infatti sono operatori cioè sono come il più il meno il per il diviso sono qualcosa che agisce sulla realtà virtuale e la cambia 5 più 2 7 il più se non viene incastrato tra il 5 e il 2 non fa niente da solo ma il più tra la realtà del 5 e la realtà del 2 trasforma il 5 e il 2 in 7 gli archetipi su cui si basa l'universo sono 4 operatori la creazione si basa solo su questo che sono la traslazione la rotazione il cambiamento di dimensione e il centro di inversione cioè sono movimenti quindi gli archetipi sono movimenti sono azioni sono verbi certamente in più ma sono dotati di forza c'è una formula posso fare questa domanda? prego gli archetipi quindi sono azioni dotate di direzione sono movimenti dotati di direzione sono anche operazioni geometriche operazioni geometriche puoi precisare meglio l'operazione geometrica è per esempio la rotazione la rotazione è questa questa è una rotazione è un operatore geometrico la traslazione questa è una traslazione queste sono le operazioni che io faccio con i solidi nella geometria si basa bene la geometria si presta bene a studiare queste cose perché la geometria è la vera scienza dell'archetipo Platone aveva i solidi di Platone con i quali diceva che il mondo era fatto in un certo modo per esempio l'universo per Platone è un dodecaedro perché? perché il numero 12 per Platone era la rappresentazione del tutto in questo contesto noi ci muoviamo ad archetipi noi non ce ne rendiamo conto perché è inso dentro di noi questa questa coscienza quindi anche gli antichi lo sanno perfettamente che gli esseri umani sono fatti di anima di mente di corpo e di spirito lo sanno perfettamente chi ha voluto creare le religioni per dividere gli uomini in che ne so cattolici protestanti o cattolici musulmani divide ed impera ha tentato di raccontare all'uomo qualcosa di credibile e per fare questo ha raccontato quasi tutto ma poi la ciliegina alla fine te l'ha cambiata per questo gli atti che si compiono nelle cerimonie religiose altro non sono che atti simbolici archetipici che fanno comprendere esattamente che la realtà è anima corpo mente spirito per esempio prendete il vecchissimo segno della croce no? mente corpo anima spirito lobo sinistro e lobo destro incrociati tra di loro perché la parte sinistra si rifà all'omodestro all'emisfero destro cioè quello femminile quello animico e la parte destra si rifà a quello sinistro che è invece la parte spirituale cioè la parte maschile del sé quindi ti dico una verità ti dico che tu sei un contenitore di una trinità che sono corpo mente il corpo che contiene la mente l'anima e lo spirito no? ma non ti dico in realtà la natura di queste tre cose che sono tre cose che sono state divise a vizio perché l'uomo cosciente totalmente non poteva essere manipolato bisognava che la coscienza cioè Dio venisse staccato in tre pezzi e poi si potesse manipolare il primo il secondo il terzo se questi tre pezzi vengono rimessi insieme cosa che si può fare con delle tecniche che in fondo rappresentano la psicologia transpersonale oggi l'uomo acquisisce una consapevolezza di sé una mappa del territorio decisamente diversa capisce perfettamente che non serve più la dualità che non bisogna votare né a destra né a sinistra che non il tuo ego deve essere distrutto perché qualsiasi cosa tu faccia quando te sei incazzato con uno che gli vuoi dire qualche cosa in realtà si scopre che sei incazzato con te stesso questo è il problema fondamentale tutto l'aspetto io allora siccome io sono arrabbiato con tizio scriverò su facebook che lui è uno stronzo in realtà in quel istante io non voglio difendere me è il mio ego che mi fa mettere giù questa roba perché io voglio che gli altri mi giudichano bene chi se ne frega di come mi giudicano gli altri quando tutto è compattato insieme il tuo ego non c'è più e tu non hai più bisogno del bene placido degli altri perché tu sai che questo universo non è più duale che non c'è più una destra una sinistra un buono un cattivo un acceso uno spento è una scatola in cui ci sono tanti esseri con consapevolezze differenti e la consapevolezza differente ti farà avere una mappa del territorio cioè una fotografia della realtà diversa dalla tua e che cos'è la magia quindi ce lo dici la definizione certo che cos'è la magia la magia è scoprire innanzitutto che tu sei Dio che tu hai costruito questo universo che lo hai costruito perché questo universo ti serve a comprendere una cosa fondamentale Dio sa tutto ha capito tutto ma ci sono due cose fondamentali che gli mancano comprendere cosa vuol dire cominciare e cosa vuol dire finire perché lui non ce l'ha dentro di sé il problema della morte è della vita e allora prende se stesso usa crea un contenitore dove il tuo corpo tu vai dentro questo contenitore e vivi una vita e la vivi nascendo e morendo comprendendo esattamente che cosa vuol dire tutto ciò e come il grandissimo film archetipico una storia infinita bellissimo film te ti rendi conto che tu sei lo scrittore del libro che tu sei il lettore che ha scritto il libro e che il personaggio del libro sei tu ma te ne rendi conto solo alla fine e perché tutto questo? perché bisogna fare l'esperienza e perché va fatta l'esperienza? l'esperienza va fatta perché se no la coscienza non si manifesta se non ti manifesti non sei non esisti se fai ti manifesti esisti questo cosa vuol dire? vuol dire che non basta che io ti racconti che cosa vuol dire aver preso una martellata su un piede la devi prendere te la martellata sul piede se no non lo capisci ecco che la coscienza si incarna vedete come il discorso religioso sembra vero Gesù che si incarna per fare l'esperienza no siamo noi ci incarniamo in tantissimi esseri ognuno farà un'esperienza ne faremo miliardi e miliardi e miliardi contemporaneamente tutto accade in un unico istante secondo la fisica di Bohm il tempo ve lo ricordo non esiste e in questo contesto tutte le piccole coscienze che sono dentro di noi che fanno parte della grande coscienza avranno capito che cosa vuol dire fare e alla fine potranno scegliere se tornare a dormire o se essersi impadroniti del gioco e far girare loro la giostra e non farla più girare a chi ha diviso anima, mente e spirito a chi vuol fare dell'universo un universo duale non ci possiamo più affidare a uno sciva e a un rischio a un diavolo e a un dio che in qualche modo dividendo e ti imperando nelle politiche dell'universo ci fanno per forza credere che noi dobbiamo stare da qualche parte quando uno si guarda allo specchio si giudica da solo io non ho bisogno di essere giudicato da sciva o da viso chi se ne frega di sciva e viso questo è l'ammazzamento estremamente importante che mi rende estremamente pericoloso gli anarchici in confronto inventati dallo Stato quando li buttano dalla finestra sono una cenciata io ti dico evita il dualismo il duale è finito da quell'istante te dentro di te se sei condito di questo non hai più nessuno che ti comanda riprendiamo dopo una piccola pausa il professor Rone diceva all'inizio mente spirito e anima sono stati divisi da chi? dunque si scopre nella genesi dell'universo che l'essere umano ha questa caratteristica fondamentale è fatto di tre pezzi ma si scopre anche che l'alieno che noi avevamo cominciato a studiare tanto tempo fa era interessato a uno solo di questi tre pezzi cioè la parte animica perché la parte animica era attemporale in parole povere era immortale l'alieno di oggi come il demone di ieri a livello mitologico era la rappresentazione di colui che vuole prenderti la gaga l'anima una specie di ritratto di Dorian Gray in cui tu se fai il patto col diavolo credi di avere dei vantaggi ma l'alieno alla fine ti frega l'alieno chi è? è una creatura tecnicamente superiore ma coscienzialmente inferiore nel senso che non avendo la parte animica non ha non conosce non apprende dalla parte coscienziale di anima che invece è molto importante l'uomo è più coscienza dell'alieno in alto chi ha creato l'alieno? l'alieno è stato creato alla fine da due forze che si possono identificare nel mito nel mito per esempio indiano come Shiva ed Isnu e che sono la rappresentazione dei capostipiti del duale Brahman crea Brahma e Brahma che è una specie di mente gigante crea la divisione Shiva ed Isnu questa divisione è fondamentale per comprendere in fondo la coscienza lo fa apposta per comprendere come è fatta se stessa e cerca per comprendere come è fatta se stessa di costruire uno specchio in cui specchiarsi in questo contesto però la coscienza comprende che non impara niente dalla sua immagine perché se io mi sposto a destra anche lei si sposterà nello stesso modo non ho un interlocutorio allora non posso creare un'immagine speculare e basta devo creare due esseri che tra di loro in qualche modo possono imparare l'uno dall'altro ma la coscienza facendo così perché non poteva fare in altro modo non ha fatto che creare una medaglia con due facce ed è chiaro che Shiva non può imparare la visione che è il contrario di Shiva in questo contesto non si impara niente da niente perché se un giorno verrà a testa vuol dire che non è venuto croce ci sono le stesse identiche informazioni bisognava fare in un altro modo cioè bisogna che all'interno di questa situazione si creino due coscienze la coscienza questa cosa la farà vedremo scopriremo perché all'inizio la coscienza non si può divinare in due perché è indivisibile ma all'interno di questa virtualità si creerà un meccanismo per cui il maschile e il femminile potranno riconoscersi unirsi e dopo ristaccarsi ognuna delle due parti avendo tutto dell'altro uno più due che quando si unisce fa tre e quando le due sfere del femminile e del maschile e del duale si separano vengono fuori due piccoli tre ognuno ha compreso l'altro in quell'istante il duale si è distrutto la coscienza ha raggiunto il suo obiettivo nel fare questo Shiva e Vishnu sono stati creati Shiva e Vishnu comprendono perfettamente come stando le cose e cercano di bloccare l'universo a questo livello di coscienza e nel bloccarlo prendono la coscienza e la dividono in tre parti una parte mentale a cui manca un asse una parte spirituale a cui ne manca un altro e una parte animica a cui ne manca un altro perché così posso dividendo ed imperando arrivare a succhiare quella che è l'energia vitale di anima senza che l'uomo acquisisca consapevolezza di sé perché le tre consapevolezze di anima di mente e di spirito sono una che guarda a destra l'altra che guarda a sinistra e l'altra che guarda al centro e non si conoscono neanche tra di loro ed in questo contesto gli dei tengono gli uomini nell'ignoranza non vogliono che essi le loro creature si evolvano perché possono solo così continuare a sfruttarle ecco ma forse mi è spurgito un pezzo ma quindi come hanno fatto a dividere come è stato fatto come hanno fatto a dividere in che modo cosa accade in ipnosi in ipnosi accade che si dividono le tre sfere le tre parti e la parte animica viene fuori e dice le cose e quando gli si chiede a duemila persone di ricordarsi come questo è accaduto anima che è atemporale quindi da un punto di vista di fisica di Bonn vede tutto in un unico istante può vedere anche negli istanti della divisione e lei dice sempre c'è un signore alto con la barba grande sembra Dio dice che è mio padre che mi ha creato lui a questo punto questa figura mitica e anche mitologica archetipica di Dio barbuto si scopre in realtà essere o uno sciva o un disnu che hanno staccato in pezzi della coscienza con una macchina per poter lavorare su di essi una macchina perché noi siamo nel virtuale e Shiva ed Isnu il diavolo ed io e Geova sono in qualche modo virtuali loro stessi loro non vogliono fare l'esperienza della vita e della morte non si vogliono sporcare le mani con la realtà dolorosa di cosa vuol dire vivere e morire loro vogliono far fare questa esperienza a noi poveri umani poi riprendere la parte animica dopo che l'esperienza è stata compiuta prendersela dentro di sé e bloccarla lì per sempre in parole povere vogliono chiudere Dio in gabbia il gioco non gli è riuscito non tutte le ciambelle riescono con il buco e a questo livello l'essere umano studiando gli alieni ha compreso dentro di sé questo grande meccanismo il grande meccanismo della divide et impera delle autorità della legge della politica delle chiese delle religioni e una volta che uno solo di noi ha capito questo mette a disposizione di tutta la coscienza questo tipo di esperienza come un grande campo morfogenetico sapete una scimmia a 3000 km di distanza ha imparato ad usare una pietra per rompere una nocciolina nello stesso istante un'altra scimmia di un'altra tv a un milione di km di distanza impara la stessa cosa questa è l'esperienza del fisico Alan Aspect che quando prende due elettroni che sono nati insieme ne manda uno a Napoli e l'altro a Milano che poi pesta un piede all'elettrone che è andato a Napoli dice hai anche quello che è andato a Milano perché i due elettroni sono legati in un non spazio e in un non tempo la coscienza di quello che accade da una parte accade dall'altra parte lentamente lo chiamano i chimici i fisici tutto è collegato da un'unica essenza la coscienza che è collegata a tutti gli esseri viventi che differenza c'è tra un essere vivente e un essere non vivente la presenza di coscienza lei diceva che tutto questo è avvenuto con l'utilizzo di una macchina ci può spiegare non sappiamo granché di questo e non è neanche tanto importante andare in fondo a vedere che tipo di macchina è qualcosa che ha lavorato però all'interno della virtualità vi voglio ricordare in questo contesto che la realtà virtuale che è stata creata dalla coscienza per cercare di capire in se stesse di fare un'esperienza fisica per poter quindi capire che cosa vuol dire vivere e che cosa vuol dire morire bene all'interno di questa fisicità virtuale modificabile ci sono la modifica dello spazio del tempo e dell'energia cioè ci sono le macchine per fare le cose noi siamo tenuti dentro questo universo dai nostri governanti attraverso le macchine noi dobbiamo comprare 14 telefonini per poter comunicare da uno all'altro ma se in realtà ci ricordassimo che noi possiamo comunicare attraverso questo campo morfogenetico senza bisogno del telefonino non ci sarebbe neanche nessuno che intercetta le nostre telefonate e potremmo fare quello che cavolo ci pare e sicuramente si complicherebbe molto meno la vita dei nostri politici per esempio ma anche del popolo il quale potrebbe pensare quello che gli pare senza bisogno che il capo lo sappia per esempio ecco in questo contesto gli dèi o gli allievi hanno diviso il mondo e l'hanno creato scientificamente macchinoso macchinario noi non abbiamo bisogno per modificare la realtà con la magia non abbiamo bisogno della macchina basta solo l'atto di volontà questa è una cosa che la parte animica dice in ipnosi si può fare questo certo che si può fare vuoi che ti cambi canale della televisione col pensiero ho imparato a farlo mi dice anima e la televisione pum mi si accende in una stanza o mi cambia canale da solo e come ti cambio canale da solo vuoi che guarire da questa malattia se la tua coscienza e la mia coscienza sono d'accordo lei ti mette una mano addosso e tu la malattia non ce l'hai più Roma che se Piero Angela vedi una cosa del genere non esce di casa per il prossimo segreto non mi vale di Piero Angela per l'amore di Dio questo è sperimentalmente provato te ti metti con un libro in una stanza nell'altra stanza prendi un soggetto lo metti in ipnosi profonda e chiedi alla tua anima di leggere quello che sta leggendo l'altro nell'altra stanza nell'altro libro e lei te lo fa ecco queste sono le cose che ti fanno capire non tanto che esistono i fenomeni paranormali ma che la fisica di Bohm cioè dell'universo virtuale di Pribram neofisiologo che dice che il cervello è un lettore di ologrammi è vera e dove riprendo il concetto di Erickson mentre prima si credeva che l'ipnosi fosse una macchina un sistema per guardare nel passato ora il passato siccome non esiste perché non esiste il tempo non esiste lo spazio non c'è è collocato in un altro modo l'ipnosi è un sistema per chiedere alla tua mente come lettore di ologrammi di andare a leggere cosa sta succedendo in questo istante nel passato che corrisponde al presente stessa definizione che darà tantissimi anni fa Sant'Agostino e allora come si esce da questo mondo virtuale in questo modo in questo modo in cui diceva adesso non è detto che si debba uscire del mondo virtuale è detto che prima lo si debba comprendere si deve capire che siamo noi quelli che creiamo le cose che vediamo siamo noi gli artefici del film registi, spettatori e recitiamo anche dentro nello stesso film e comprendere che è solo l'atto di volontà che ci permetterà in qualche modo di modificare i parametri virtuali che sono spazio tempo e energia che ci permetterà di comprendere al di là di quello che vediamo aspetti anche molto più profondi perché noi possiamo guardare le cose ma con profondità differenti più consapevolezza di noi abbiamo e più le cose le vediamo meglio lo stesso Penrose fisico inglese molto importante dice insomma in fondo il secondo principio della termodinamica che dice che l'entropia dell'universo aumenta sempre mi sa che non sia proprio tanto vero e io dietro gli dico è vero hai ragione perché il secondo principio della termodinamica probabilmente non misura l'energia ma misura la coscienza dell'universo quella aumenta infatti sempre mentre l'entropia ahimè alcuni esperimenti di fisica quantistica e di termodinamica quantistica dimostrano che almeno localmente non è vera e purtroppo Ilia Prigojin premio Nobel per la chimica dimostra le stesse cose quindi c'è qualcosa che deve essere rivisto ma gli strumenti per rivedere questo sono nelle mani della fisica quantistica e lobo sinistro nelle mani della coscienza interna del tuo comprendere come è fatto l'universo nel sentire l'emozione del vivere lobo destro abbandoniamo il super maschio e la super femmina per fare un essere che almeno mentalmente sia androgido come dicevano gli antichi come dicevano gli antichi lei parla nelle sue conferenze di uomo primo uomo secondo ci puoi spiegare sono categorizzazioni noi studiando questo problema degli alieni che poi poi c'è sfuggito di mano e siamo andati a lavorare con la coscienza abbiamo cominciato a categorizzare gli alieni gli alieni sono fatti così poi c'è un altro tipo fatto così c'è un altro tipo fatto colà un altro tipo fatto colà avevamo categorizzato almeno quei dieci dodici tipologie di soggetti antropomorfi che venivano a romperci le scatole tutti quanti volendo quella roba che avevamo noi che si chiamava anima e che avrebbe garantito all'alieno che non è cosciente l'immortalità mentre solo nell'acquisizione dell'accettazione della morte c'è la comprensione della vita eterna ma chi aveva creato tutta questa fenomenologia di alieni e scopriamo che esistono due esseri precursori uno a destra e uno a sinistra uno nell'universo duale nero e l'altro nell'universo duale bianco si direbbe un po' così oggi la new age direbbe così e questi esseri erano le prime cose con il corpo in cui la parte animica era in qualche modo entrata primi esseri che dovranno costruire tutta questa discendenza perché loro non si vogliono sporcare le mani con il fare le cose le vogliono far fare agli altri vivere è doloroso i dei non lo vogliono fare chi aveva creato questo uomo primo e questo che noi chiamiamo uomo primo perché è il capostipite della creazione o quest'altro uomo primo dall'altra parte dell'universo nero queste due entità che noi ideicamente abbiamo identificato come Shiva e Vishnu ci facciamo riferimento sempre agli archetipi e ai miti che noi troviamo nella storia perché mentre la storia è la rappresentazione di un passato che diventa presente e che con i film di fantascienza diventerà futuro nel mito noi abbiamo una sola fotografia dentro la quale c'è il passato il presente e il futuro il mito anche da un punto di vista junghiano ci permette di capire che cosa sta succedendo nell'universo come è fatto l'universo e come finisce anche il gioco perché nel mito c'è la rappresentazione che la coscienza dà della realtà virtuale tutti i miti sostanzialmente sono uguali c'è un buono c'è un cattivo c'è un accedo c'è uno spento e uno dei miti più interessanti perché uno dei più antichi è il mito della genesi induista la civiltà della valle dell'indo che poi ha dato origine al mito degli dei di Babilonia che hanno dato origine al mito degli egizi che hanno dato origine al mito dei del popolo ebraico e da un'altra parte dei greci cambiano i nomi ma il concetto è sempre lo stesso da una parte c'è Ra che diventerà poi Amon Ra sincretizzando il dio di prima generazione con il dio di seconda generazione il dio di prima generazione è Amon il mai nato Ra invece è nato vive d'altra parte c'è Cronos l'onnise epiterno il mai nato e Zeus sotto che invece è un dio di seconda generazione così ritroviamo la stessa serie di dei da tutte le parti Ra Dio sole dodici costellazioni che lo adorano Gesù dodici apostoli dodici apostoli ma Gesù è un dio nato il mai nato è Geova il padre di Gesù e così ritroviamo la stessa struttura degli dei nella valle dell'Indo e la ritroveremo anche nel Brahman che crea Brahma che crea Shiva e Visno la Trimurti così come la Madonna e del mondo cattolico è la rappresentazione per gli induisti della Dea Kali come in un'altra ipotesi è Aishtar Astarte Astarotte o se volete Astarsheran cioè il nome dell'alieno che viene visto negli anni 60 dai contattisti americani si comprende perfettamente che nel mito c'è come va a finire come va a finire il professore è semplice Shiva e Visno lottano contro di loro e si ammazzano a vicenda e l'uomo persegue la terza via non quella di Shiva non quella di Visno ma la sua e ritorna in alto a riconquistare la propria consapevolezza di sé una delle cose che abbiamo notato io non me ne ero accorto assolutamente è che facendo un bel giorno un organigrama di tutti questi idee che avevano creato alieni eccetera eccetera lo faccio anche per venino con un bel disegnino in tre dimensioni perché mi divertivo quando ci vedevo è venuta fuori che cosa? è venuta fuori una cosa interessante cioè è venuta fuori per sbaglio io poi leggendo la cabala ebraica esatto la identica cabala ebraica identica quindi cioè il rabbino Luria non sa spiegare alcuni aspetti della cabala ebraica che io sono in grado di spiegargli ora pur non essendomi fondamentalmente mai interessato di cabala ebraica ecco la cabala era la rappresentazione dell'albero della vita l'albero della vita eterna l'albero cioè do che gli antichi alchimisti del 1300 rappresentavano come la fontana della vita voi prendete per esempio le rappresentazioni di tutti questi alberi della vita che sono state fatte da tutte le culture in tutte le parti del mondo e troverete sempre disegni molto diversi che hanno sempre gli stessi pezzi disegnati negli stessi posti il mandala tibetano altro non è che la fontana della vita solo che è stata vista dall'alto dall'alto perché il tibetano ha una visione diversa dello spazio dove i tre monti del mandala tibetano che rappresentano i tre mondi che noi diciamo essere lo spazio il tempo l'energia sono rappresentate nel mondo cristico da le tre zampe del leone che è la prestazione di Gesù ma solo tre perché Gesù tiene un piede alzato il leone tiene un piede alzato perché ne ha solo tre professore se vuole rispondere interrompiamo un attimo la telefonata è finita professore riprendiamo il nostro parliamo di Gesù ci vuol dire qualcosa in più di Gesù? no perché questa figura di Gesù cioè Gesù è una figura storica la gente cerca il seppurco di Gesù non lo troveranno mai non lo troveranno mai perché Gesù non è mai morto perché non c'è mai stato non è mai esistito questa figura storica come non è non è mai esistito un Mosè non è mai esistita una migrazione nel deserto Tutmosis figlio di Tut è un faraone Tutmosis III monoteista il quale chiaramente adorava il Dio Sole e i preti di allora che invece avevano diverse parrucchiete ognuno si teneva il suo dio sarebbero stati sincretizzati in un unico sacerdote invece sarebbero essere tanti e allora la chiesa caccia il potere politico caccia il dio monoteista il dio monoteista il faraone monoteista il quale con 20.000 2000 pecorari se ne va fuori dei confini del suo popolo dell'Egitto a questi pecorari il suo padrone deve dare delle indicazioni deve dare una legge deve dare una serie di regole e gli da quelli che sono poi fondamentalmente i dieci comandamenti Mosè non pensando che i dieci comandamenti papale papale così come sono stati scritti li ritroviamo nelle 64.000 tavolette a Bagdad state scritte 8.000 anni prima uguali dove l'arca di Noè Noè non si chiama più Noè ma si chiama Upnapistin con le stesse identiche storie la stessa lunghezza dell'arca gli stessi giorni la stessa colomba che esce uguale tutto uguale la stessa storia che non può essere vera perché in fondo a livello protocanalita il Vecchio Testamento è un 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 testo giovane se si scopre che è stato già scritto non solo a Babilonia ma nella Valle dell'Indo quindi andiamo indietro con i 12.000 anni vuol dire che quella non è farina nel sacco di Mosè Mosè dà al suo popolo le regole del popolo egizio non ricordandosi che le regole del popolo egizio erano state quelle del popolo babilonese non ricordandosi che le regole del popolo babilonese erano state quelle delle Valle dell'Indo un po' come ha tentato di fare i bossi quando ha costruito il suo partito ha detto che siccome quel partito lì non esisteva e non c'era tradizione si è inventato che sono Celti ecco un'invenzione di questo tipo il politico vecchio il politico nuovo sono passati 4.000 anni ma non sono fondamentalmente cambiati forse avrebbe ragione Renzi che bisognerebbe fare una ristrutturazione una rottamazione anche degli dèi una rottamazione quindi in realtà la via di mezzo è l'uscita dalla dualità la via di mezzo è il riconoscere che la dualità è finta e quindi noi siamo uno siamo uno ma perché allora però volevo tornare un attimo professore sempre a questa tripartizione mente se ce la spiega magari in maniera un po' più semplice quindi mente spirito e anima tutto si gioca su energia spazio e tempo possiamo un attimo ritornarci e magari ci fa qualche esempio se possibile certo molto semplicemente anima mente e spirito sono gruppi di vettori e di tensori che noi possiamo rappresentare anche come gli stessi parametri che rappresentano i quark colori sostanzialmente alla fine potremmo definire che anima è un gruppo di quark e mente e spirito lo stesso che si comportano nello stesso modo con le stesse regole con gli stessi colori ideicamente cioè inconsciamente dentro di noi abbiamo l'informazione che diamo all'asse dell'energia il colore verde all'asse dello spazio il colore rosso e all'asse del tempo il colore blu come si fa a capire questo? si prende una persona se ne prendono 200 gli si dice secondo te il colore del tempo che è blu il colore è se è sano di mente ti darà questi colori qua questo vuol dire che archetipicamente noi possiamo immaginarci che la nostra mente vede questo e immagina questo dentro una stanza mentale che un altro neurofisiologo che si chiama Kostlin dice la visione di ciò che accade in quella stanza mentale segue le stesse regole come peraltro dice anche Jung psicologista molto importante le stesse regole della fisica che sono fuori nel mondo virtuale perché tra il mondo virtuale e quello che io immagino nella testa non c'è nessuna differenza perché sono due mondi virtuali uguali e appartengono alla stessa virtualità allora lavorando a livello archetipico su come io mi immagino l'universo con opportune regole precise posso cercare di comprendere come è anima come è mente come è spirito in un test recente che noi chiamiamo triade color test facciamo fare un'analisi a un soggetto qualsiasi si prende gli si dice immagina nella testa una stanza in cui ci sono tre sfere tre sfere che si accendono tre lampade una sarà la mente una sarà lo spirito e una sarà anima queste lampade si accendono e il soggetto sano statisticamente mostra questi colori anima blu spirito rosso e mente verde in questo contesto abbiamo potuto notare che qualsiasi variazione di questo colore può essere assolutamente perfettamente identificata con una non perfetta sanità mentale del soggetto attenzione quando dico sanità mentale intendo dire qualcosa che riguarda a un organismo perfettamente in equilibrio con se stesso ricordo infatti che il psicoanalista importantissimo contemporaneo Ilman dice che la sanità mentale è un tipo di malattia quindi non è che uno è sano solo perché ho detto io voi andate da uno psicologo beh lo psicologo vi dirà che siete sani solo se lo psicologo la pensa come voi perché se lo psicologo la pensa in un altro modo voi avete qualche problema fate la prova andate e vedrete è così noi ci crediamo assolutamente in questo contesto no lo so non ci credo lo so in questo contesto le variazioni di colori potevano essere messe in relazione alla presenza di fenomeni di adduzione perché avevamo notato che i colori tipo RGB rosso blu e green verde venivano modificati in ciano giallo e magenta cioè i colori complementari quando il soggetto aveva delle problematiche psicotiche invece il colore RGB cambiava in GBR cioè il rosso diventava blu il blu diventava verde ma sempre nella sfera dei colori fondamentali primari quando c'erano problemi di adduzione chiaramente statisticamente fai le prove su 100 persone vedi che è così tenete presente che la medicina quando fa una statistica con la curva del T quadro analizza 15 pazienti noi abbiamo lavorato su 2000 persone quindi un valore statistico ce l'avrà perché questo accade? perché lavorando con i vettori colore abbiamo scoperto che per esempio mente ha due vettori che sono lo spazio e il tempo spazio e il tempo sono di colore rosso e blu gli manca l'energia energia è la colore verde quindi essendo che la sfera nella tua testa appare con uno spettro di emissione la mente assorbe tutte le informazioni dell'universo spaziali e temporali ma rigetta le informazioni energetiche quindi ti apparirà verde nello stesso contesto essendo l'asse del tempo blu anima ti appare blu perché lei con l'asse del tempo non c'è nessun problema ma questo ti permette di comprendere che quando gli assi non sono messi in modo giusto e uno riceve meno informazioni ecco che il colore si può essere modificato e quindi con un banale programma al computer puoi identificare esattamente la quantità di quel tipo di informazioni che non entra dentro di te la new age direbbe che ti apriamo il chakra ma la new age ha un significato che insomma ti dice delle cose che possono essere anche molto interessanti però attenzione perché siccome la new age è stata creata dall'alieno è stata creata per farti credere che l'alieno è buono per farti credere che dentro di te c'è uno spirito che ti porterà al bene per farti credere che c'è l'angelo buono che per tutta la vita ti sta dietro e ti vuole aiutare ti dice le cose in modo credibile perché sennò te ti insospettiresti ma alla fine ti dice una bugia e siccome tu hai creduto e hai sperimentato tutto il resto pensi anche che l'ultima bugia sia vera nel caso della new age ecco che la bugia finale è la seguente per esempio bisogna volersi tutti bene no no sbagliato e capite subito che la grande religione cattolica l'altro non è che una grande new age non si deve voler bene agli altri prima devi imparare a voler bene a te stesso poi se ne parla non devi aiutare un altro aiuta te stesso perché quando tu avrai acquisito consapevolezza di te la tua consapevolezza sarà a disposizione di tutti questo è l'aspetto fondamentale quindi attenzione a non credere che l'alieno o l'angelo poi alla fine sì ci sono anche quelli cattivi per forza di cose perché ci devono essere quelli buoni non ci sono né buoni né cattivi ci sono gli alieni che non sono duali sono alieni e dal loro punto di vista noi siamo mucche da mungere dal nostro punto di vista eravamo mucche da mungere ma la mucca a un certo punto ha detto al contraddito ora basta quindi gli alieni da noi vogliono la coscienza quindi l'anima la vita e attraverso questo lavoro che noi abbiamo fatto con i colori che è la rappresentazione del test di Max Luscher applicato a un altro test che è il test degli spazi di Pulfer 1921 risale il test Pulfer era un grafologo studiava come mettiamo le cose nello spazio mentre Luscher studiava ti dirò chi sei a seconda del colore che ti piace di più la sequenza dei colori che scegli esattamente piacevoli per te beh in questo contesto il tria del color test ci fa capire esattamente a livello ideico e simbolico che cosa accade ma abbiamo una chiave di lettura basata su dei vettori colore che abbiamo messo a 90 gradi tra di loro solo perché sappiamo fare bene l'angolo di 90 gradi e il seo di 90 e in quel contesto quando mettiamo e lavoriamo con queste sfere luminose all'interno della stanza mentale di Coslin riusciamo a trasformare i colori sbagliati nei colori giusti per esempio fondamentalmente parlando lo schizofrenico ha uno spirito rosso una mente blu una mente nera e una parte animica blu la mente nera è una mente che assorbe tutte le informazioni ma non ne butta fuori niente cioè una mente incapace di mettere in relazione la parte destra con la parte sinistra schizofrenico vuol dire esattamente tagliato da schizzo dal greco separato prendo lo schizofrenico gli faccio immaginare di vedere la sfera nera di mente cambiare colore e diventare verde e lo schizofrenico guarisce all'istante per due mesi sarà bene dopo due mesi torna schizofrenico perché? perché non ho fatto altro che cambiargli il colore ma non ho detto alla sua mente che ha una sua coscienza andiamo a verificare perché hai la tendenza a diventare nero cioè applichiamo le regole della psicologia transpersonale a quella parte di te capirai perché acquisirai la consapevolezza del perché sbagliando la tua sfera di mente tende a non buttare fuori nessuna informazione supererai il trauma e da quel momento in poi la tua sfera di mente torna e per sempre stabilmente ad essere verde con questo sistema noi abbiamo lavorando su soggetti non addotti recuperato un sacco di soggetti che avevano dei problemi mentali molto molto interessante questo veramente adesso volevo fare una domanda un po' diversa lei ha affermato mi pare se non sbaglio che circa il 50% della popolazione è anima il 20% e il restante 80% ma ci sono delle cose molto interessanti ce le dica sì da dove nasce questa ipotetica cosa nasce dal fatto che tutti i soggetti animici messi in ipnosi dicevano questo ci sono un certo numero di persone in cui noi anima possiamo entrare gli altri non hanno il DNA adatto diceva così per questo abbiamo collegato la sequenza di basi purimiche pirimidiniche degli scalini del DNA secondo di come sono fatti alla possibilità che la parte animica sia compatibile con il DNA che rappresenta una molla e quindi sostanzialmente un'antenda in qualche modo con la parte animica benissimo gli altri mi ricordo sempre di un caso che dissi e gli altri da dove vengono e la parte animica di questo addotto mi disse ah non lo so noi non lo sappiamo quelli da dove vengono quella fu la prima risposta agghiacciante ma in realtà poi studiando ad andare avanti cercando di comprendere bene perché la parte animica dice delle cose ma la parte animica parla alla mente in modo archetipico e la mente traduce a fonemi quindi ci sono già troppi passaggi per cui in qualche modo noi potremmo sbagliare l'interpretazione un alieno che ha disturbato il nostro in questo contesto esistono un certo numero di livelli che noi crediamo essere sette livelli perché se la struttura dell'universo è una struttura archetipica simbolica quanto volete ma anche virtuale e frattalica e basata sulla sulla fisica degli ologrammi come dice la fisica moderna con esempio di energia di un'etrono quantizzato ci sono sette livelli di esistenza dell'universo gli alieni a questo livello noi li avevamo già sconfitti già abbiamo capito che loro non hanno un futuro noi siamo più coscienti di loro non ci faremo mettere di mezzo nel tempo virtuale vediamo che le cose stanno molto migliorando e miglioreranno e noi vinciamo lo dico al singolare al presente vinciamo nel senso che abbiamo già vinto ma al piano di sopra al piano di sopra ci sono quelle creature che dovevano venire in fondo per fare le creature che sono gli angeli della new age per fare l'ultimo step ecco alcuni di loro non hanno avuto il coraggio perché hanno paura di scendere come dicevo prima e di fare questa esperienza in questo contesto su cento posti macchina solo venti si sono riempiti gli altri ottanta la loro parte animica hanno avuto la possibilità il coraggio il motus di scendere e sono rimasti sopra quando la new age ti dice che bisogna scendere ecco dove c'è un altro errore non bisogna scendere bisogna scendere fino in fondo per fare l'esperienza fino in fondo perché l'abbiamo detto prima la coscienza è la manifestazione se tu la manifestazione sei vuol dire che fai se fai cento sei tutto se fai ottanta sei ottanta quindi non sei arrivato fino in fondo per questo motivo chi si manifesta a te persona cosciente come angelo buono che ti vuole lavorando sul tuo ego dire che sei bravo sei buono devi venire come noi devi ascendere lavorando sul tuo ego sta facendo un discorso duale e se te non te ne accorgi che il discorso è duale non saprai neanche che il discorso è falso qualcuno che ti vuole togliere di qui perché qui la tua coscienza è troppo elevata e si potrebbe spandere come una cellula cancerogene al contrario tu devi essere tonto per essere portato su e ascendere la coscienza si acquisisce nel discendere non nella ascendere un po' come si vede nella descrizione archetipica del passato come si vede nella cabala ebraica come si vede nell'ultimo film di Bruce Lee che non ha mai visto uno schermo dove Bruce Lee combatte gli alieni delle cinque pagode delle cinque livelli della pagoda il settimo siamo nuovi e l'ultimo è la coscienza e arrivando alla coscienza poi tornerà alla fine del film in fondo a mettere i piedi sulla terra perché lui ha deciso di rimanere qui siamo noi ora che decidiamo come giocare noi giriamo la giostra prima la giravano gli alieni Shiva e Vishnu ora che abbiamo capito che Shiva e Vishnu erano fondamentalmente il bene e il male ma due parti di noi e li abbiamo compreso bene e ci siamo riuniti in un'unica essenza non dobbiamo più essere categorizzati non abbiamo più bisogno di votare per tizio o per cario noi votiamo ognuno di noi per noi stessi il paradigma della vincita è la seguente finora abbiamo fatto un esercito con mille persone fallimento facciamo mille eserciti di una persona sola come i pirania che in un secondo la vittima la spolvano e allora il professore Scusi per lei prima diceva il DNA è un'antenna quindi che cos'è il DNA per lei un'antenna com'è che funziona il DNA è una struttura interessante in cui ci sono è una scalacchiocciola in qualche modo dove ci sono degli scalini e gli scalini sono fatti dal montaggio di due basi che si chiamano puriniche e pirimidiche ma sono quattro tipi di cose che si mettono insieme quindi poca roba il DNA ci sono quattro molecole fatte in questo modo c'è un pochino di acido fosforico e un pezzettino di zucchero non c'è altro lì dentro c'è il nostro universo perché è montato in un modo particolare per cui all'interno del DNA ci sono degli orbitali dei posti dove si possono trovare degli elettroni all'interno dove la parte animica probabilmente seguendo questo flusso energetico si immette non lo dico io lo dice l'addotto in ipnosi facendo parlare la sua parte animica 2000 persone ti dicono la stessa cosa e queste 2000 persone non sanno neanche come è fatto il DNA perché magari costruiscono vasi di plastica oppure fanno i zappatori nel Bangladesh ma in quel contesto sono in grado di parlare dei massimi sistemi ecco questo è un aspetto fondamentale il DNA ma se poi vogliamo ascoltare cosa dice Craig l'amico di Watson quello che ha costruito la formula del DNA vincendo il premio Nobel qualche anno fa disse era proprio a Firenze a un convegno di biogenetica e disse il DNA è il posto dove si trova dentro la parte animica ora un biochimico premio Nobel che ti dice questo ti fa pensare ti fa pensare anche che questa antennona che è la rappresentazione del DNA è come una grande molla che è basata su dei numeri particolari che sono la sezione aurea il pi greco e così via nella sua struttura geometrica ti fa pensare anche a quello che ha detto Penrose pochi giorni fa grande fisico anima è una struttura quantica che è inserita all'interno di tubuli quantici all'interno della mente del cervello umano e che dopo la morte del contenitore sopravvive con la sua coscienza quindi se me lo dice Perpola se me lo dice Crick ma perché no lo posso dire anche io questo mi è stata riferita questa cosa da lei non l'ho sentita per cui riporto quello che mi è stato riferito ancora qualche domanda professore poi siamo al fine perfetto puoi dirci a cosa esattamente si riferiva quando affermava di un'antenna per schermare neutralizzare un certo input sì sì è una cosa interessante ho capito a cosa si sta riferendo nelle in molte sedute ipnotiche che abbiamo fatto con diverse persone la parte animica che parla sempre un po' per archetipi racconta di qualche strana struttura a forma di antenna o comunque con quel tipo di geometria in altezza strutturata in altezza che serve a fare qualcosa e noi non abbiamo ancora capito bene a cosa serve che va o attivata o disattivata perché questi tipi di antenne emetterebbero o potrebbero emettere alcune frequenze che mentalmente darebbero noia alla parte destra e sinistra le due coscienze di cui abbiamo parlato di anima e di spirito parte femminile e parte maschile che dovrebbero unirsi nell'istante in cui si acquisisce la nostra consapevolezza siccome l'alieno che è tecnologicamente molto meglio dotato di noi anche se coscienzialmente meno ha questa tecnologia qualcuno ha voluto pensare che questo tipo di apparecchiature potrebbe ricollegarsi forse ma noi non lo sappiamo è un'ipotesi al progetto ARP il progetto ARP è un progetto americano del governo americano in cui ci sono delle antenne che non si sa bene a che cosa cavolo servono ma alcuni complottisti pensano potrebbero servire a dar fastidio alle menti umane soprattutto lavorando su frequenze molto basse dagli 8 ai 12 erzi nell'istante in cui l'essere umano comincia ad acquisire consapevolezza di sé il suo padrone chiunque essa sia esso sia alieno o alienato governatore mette atto a un progetto per confonderti la mente una torre di Babilonia moderna dove gli dèi confusero gli uomini che da allora parlarono lingue diverse il mito ancora una volta mi dice che forse non è tutto da buttare via non è tutto da buttare via lei parla anche di coscienza integrata mi pare nell'ultimo suo scritto la coscienza integrata quando noi prima con il Tria de Color Test lavorando con un Tria de Color Test dinamico riuscivamo a prendere il soggetto e portarlo in condizione di essere liberato dal problema delle aduzioni aliene perché la coscienza comprende esattamente chi è l'alieno decide di non interagire più con esso e quando la coscienza decide questo non c'è più niente da fare in questo contesto le sfere luminose rossa blu verde o dei colori che erano le facevamo unire insieme e gli facevamo comprendere che in realtà avere un colore è come essere categorizzato la coscienza è di tutti i colori perché ogni colore è la rappresentazione ideica di quello che sei la coscienza è tutto e deve avere tutti i colori e il colore di tutti i colori è il trasparente quando la coscienza diventa quasi una bolla impercettibile ci puoi guardare dentro e vedere che dentro non c'è niente perché è vipida quella è la ritorno a quello che eri prima che qualcuno ti dividesse in questo contesto il soggetto acquisisce una consapevolezza di sé allucinante in ipnosi mi ricorderò sempre un caso che era qui e faceva perché entra in uno stato ipnotico nel triade color test dinamico si chiama così e guardava a un certo punto in basso e indicava con gli occhi chiusi e guardava con l'indice guardava in basso e diceva cosa sono tutti questi mondi tutti questi esseri tutte queste creature le ho fatte tutte io quante sono e perché le ho fatte tutte io non ne bastavano meno in quell'istante comprendi che la tua coscienza non è la coscienza reale ma è una coscienza che ha capito che cos'è lo spazio che cos'è il tempo e che cos'è l'energia che vive in un contesto virtuale che lui può gestire ma non ha fatto l'esperienza nel suo contenitore quindi non sa tutto non ha ancora ricordato tutto e deve fare la sua esperienza per acquisire tutte le cognizioni su la vita e la morte ma da quell'istante non farà più il soggetto l'esperienza che vogliono gli alieni ma l'esperienza che vuole lui sarà libero questo è il significato di essere libero quando il soggetto aprirà gli occhi mi guarda guarda questo dito con il quale in qualche modo indicava batte il dito su questa scrivania e dice il dito non ci passa nel mezzo come mai di là il dito passava dentro questa struttura in quell'istante la coscienza si rende conto che questa scrivania è finta e come la vedi di là è vera ma quando sei di qua vedi che è virtuale in parole povere hai imparato la scrivania la stai creando tu tu hai creato lo spazio di tempo e di energia e da quell'istante saprai che la puoi modificare se ne hai voglia in questo contesto va ricordata una piccola nota non perdiamo tempo a fare i miracoli i miracoli le fanno le persone che vogliono far vedere delle cose chi sa fare veramente i miracoli non ha nessun bisogno di fare i miracoli professore ancora qualche domandino siamo praticamente alla fine quindi dicevamo che sci e chimiche io parlo di sci e chimiche e arpe sarebbero un modo magari per per influenzare e per influenzare i nostri pensieri la mente umana c'è un modo per difendersi da questo? c'è un solo modo per difendersi da questo è lo stesso modo che abbiamo usato per fare la lotta agli alieni e poi abbiamo compreso che bisognava generalizzare tutto questo siamo partiti per fare la lotta agli alieni e studiare gli alieni capire che sono secondo il nostro punto di vista duale cattivi che in realtà non è vero sono solo alieni e si fanno i loro interessi ma la lotta all'alieno veniva fatta attraverso l'acquisizione di consapevolezza nell'istante in cui tu sai chi sei se ti fai prendere perché tu hai deciso di farlo se no non ti piglia nessuno non ti scalfisce nessuno in questo contesto si comprende esattamente dove era l'errore fondamentale della new age e delle grandi religioni che cosa si dicono cerca Dio fuori no Dio è dentro di te stavi guardando nella parte sbagliata stavi guardando nella parte sbagliata a seguito dei suoi studi professore cosa pensa della meditazione la meditazione trascendentale che ha inventato questo Maharishi maesh che ricordiamo è uno yogi indiano ma è anche un professore di fisica quantistica che lavorava negli Stati Uniti da un punto di vista e ha pubblicato delle cose su giornali importantissimi scientifici non sul topolino quindi su Nature su Science statisticamente lui dimostra che con la meditazione cioè col sistema in qualche modo che noi abbiamo cercato di migliorare noi lo chiamiamo Tria De Color Test ma è una meditazione guidata tu entri dentro di te comprendi le forze che hai le riunisci insieme in un'unica coscienza integrata e dopo puoi fare i miracoli cosa dice Maesh dice che la possibilità di cambiare la realtà è direttamente proporzionale al quadrato delle persone che si impegnano nel farlo lui dice che il quadrato viene fuori perché nel quadrato matematico c'è la rappresentazione della probabilità matematica di fare le cose che deve essere sempre positiva quindi deve essere un numero al quadrato come un po' nelle funzioni di Schrödinger la probabilità di trovare un elettrone c'è una funzione al quadrato un altro matematico americano di cui non ricordo il nome ma che nomina questo coseno Luis Parise che è questo psicoanalista che parla della magia in termini anche quantistici per quest'altro americano c'è un numero che è la radice quadrata dell'1% della popolazione mondiale mi sembra siano circa 8.000 9.000 persone necessarie a modificare un evento secondo me hanno ragione tutti e due ma hanno anche trovato perché secondo me basta una sola persona che abbia acquisito la consapevolezza che in automatico tutti acquisiranno quella consapevolezza la potranno consapevolmente vedere o inconsciamente tenere sempre seppellita dentro di sé ma ce l'hanno i numeri che gli altri due ricercatori davano sono legati a problemi sempre statistici è chiaro che ci sono 8.900 persone riunite insieme che possono fare quello vuole anche dire che se ne prendi 8.900 hai la probabilità di trovarcene uno dentro se invece ne prendi 8.700 la probabilità non c'è oppure che il quadrato delle persone sia proporzionale all'effetto può anche voler dire che più aumenti la popolazione di queste persone più c'è uno solo e basta lì dentro a farti il miracolo secondo me secondo quello che viene fuori dalla quantistica e da quello che viene fuori dalla visione quantica dell'ipotesi del perché noi vediamo una particella o un'onda perché noi vediamo una particella o un'onda perché la nostra coscienza è quella di vedere un'onda o di vedere una particella in questo contesto ne basta una sola se io acquisisco la consapevolezza siamo tutti fuori dal problema immediatamente perché la realtà reale dura un niente solo che nella realtà virtuale questo un niente è spallato lungo il tempo e noi piano piano ce ne accorgiamo di quell'un niente che nella realtà reale tutte le creature viventi si sono rese conto subito vi posso dire secondo me il problema degli alieni noi lo abbiamo vinto ma ve ne accorgerete nel tempo un'ultima una penultima domanda seguito dei suoi studi di cui ci ha brillantemente parlato anche oggi che è del suo fatto della reincarnazione di cui parla il problema della reincarnazione all'inizio non ci credevo Brian Weiss studiava psichiatra americano con ipnosi regressiva i traumi delle persone facendoli rivivere in altre vite perché lui dice che abbiamo un karma e quindi quando io ho male a un dito in questa vita è perché in un'altra vita qualcuno comunque ha fatto qualcosa su quel dito e quindi io mi porto dietro a questo tipo di operazione vivo la stessa esperienza in mille modi diversi mi farò male a questo dito se non riesco a risolverlo qui vado a prendere ricordi di un'altra vita in realtà non ci sono le vite passate le vite future perché il tempo non esiste esiste l'idea di fare tante esperienze in tanti contenitori e la parte animica entra sull'asse del tempo in tantissimi contenitori ma invece di entrare in uno per volta come le lampadine dell'albero di Natale che se se ne fulmina una le altre non si accendono più cioè lavorando in serie milioni di anni prima di arrivare in fondo le lampadine si accendono tutte in parallelo cioè la mia parte animica è in questo istante dentro tantissimi altri contenitori tutti quanti fanno contemporaneamente la stessa esperienza che dura un miliardesimo di miliardesimo di secondo anche se una lampadina si fulmina tutte le altre vanno avanti e non c'è bisogno di aspettare dei cronomi per vedere come va a finire basta 10 alla meno 44 secondi cioè il tempo di Planck Planck fisico premio Nobel che ha stabilito che un tempo più piccolo non c'è quindi al massimo se l'universo lo dobbiamo contare in tempo 10 alla meno 44 secondi quantità piccolissima io avevo qua l'ultima domanda perché mi pare lei abbia risposto se vuole aggiungere qualcosa magari sono molto contento in che cosa in che cosa mi intende esattamente quando affermo appunto sottolinea anzi l'importanza del cammino personale di conoscenza e coscienza questo è semplice è l'aspetto fondamentale che ci fa dire che gli alieni non sono cattivi non sono buoni sono alieni ma soprattutto non possono essere buoni perché? non possono essere buoni perché l'alieno buono verrebbe e ti aiuterebbe ecco in questo contesto il vero alieno buono è quello che non interferisce con te perché sai esattamente che il processo di acquisizione di consapevolezza deve essere un processo personale e qualsiasi tipo di interferenza produce su di te dei danni perché non ti fa prendere a te coscienza e consapevolezza allora quando l'alieno viene e ti dice o il santo o l'angelo viene e ti dice che ti vuole aiutare beh pensateci bene perché secondo me vuole aiutare se stesso l'angelo non c'è nessuno che ti vuole aiutare nella vita reale chiunque faccia un favore si guardi nella coscienza in fondo potrebbe scoprire che il favore lo sta facendo a se stesso professore io la ringrazio la ringrazio tantissimo di questa piacchierata della sua grande disponibilità di quanta conoscenza ci ha messo a disposizione quindi la ringrazio a noi a nome di Accademia della Libertà mi auguro di ritrovarla più avanti un'ultimissima domanda lei sta proseguendo i suoi studi o sono in una fase ho quasi finito ho quasi finito c'è ancora tre o quattro cosette da pubblicare poi ci sarà un problema di divulgazione ma questo è un altro aspetto della questione noi siamo a disposizione comunque per divulgare i suoi studi la ringrazio ancora e buona buona serata perché è quasi tardi ormai grazie